Tornati in questo nuovo video in cui esploreremo ancora i GameObjects e più nello specifico i Components. I Components sono praticamente ciò che rendono, differenziano un GameObject dall'altro e aggiungono ognuno una funzionalità diversa. Prendiamo il caso di questa sfera. In questa sfera abbiamo un Component Transform che è praticamente di base, di default, all'interno di tutti i GameObjects che noi stanzieremo nel nostro oggetto. Poi abbiamo un Component Mesh Filter che praticamente assieme al Mesh Renderer mi permettono di visualizzare questo oggetto con questa determinata mesh che in questo caso appunto è una sfera. Abbiamo il Components per Collider che fa parte più nello specifico dei Collider generici e mi permettono di avere appunto un oggetto che è più semplice rispetto alla mesh che mi permette di individuare le collisioni. E poi abbiamo un Rigidbody che mi permette di simulare la fisica. Tutti questi componenti sono aggiungibili andando selezionando quel GameObject che ci interessa e aggiungendolo tramite questo pulsante Add Component in cui noi troviamo tutte le componenti che è possibile aggiungere. Le possiamo cercare tramite questo rapido menu. Per esempio posso cercare appunto scrivere quello che voglio e trovare la componente che mi serve. Le componenti sono accessibili tramite script e per farvi vedere come vi faccio l'esempio in cui noi vorremmo accedere al component renderer successivamente al materiale per poter cambiare al nostro piacimento il colore di questa sfera. Vi ho preparato questo script in cui mi sono salvato la mia variabile di tipo renderer e l'ho appunto ottenuta, ho fatto un accesso a questo renderer tramite la funzione GetComponent che si scrive esattamente in questo modo, quindi GetComponent, poi tra queste parentesi scriviamo la classe e l'oggetto che ci interessa e poteva essere benissimo anche per esempio Rigidbody e il tipo di componente che ci serve e poi non dimentichiamo mai le parentesi donde perché si tratta sempre di una funzione. Quindi ho salvato il mio componente renderer che questa funzione non fa altro che cercarselo all'interno del game object in cui è contenuto questo script che è lo script pallina. Quindi accedo al component renderer e poi tramite i vari puntini accedo a ciò che mi interessa, in questo caso mi interessava il mio materiale e il mio colore al fine di poter cambiare il colore della pallina al rosso. Vediamo, questo l'ho fatto dentro la funzione Start. Dentro la funzione Update invece ho messo che tramite la pressione del tasto A volevo che veniva invocata una funzione Cambio Colore in cui non facevo altro che controllare che se il mio colore era rosso di cambiare il colore della pallina a verde altrimenti se il mio colore era verde cambiare il colore della pallina a rosso. Molto semplicemente salviamo lo script e verifichiamo il funzionamento di quanto ho fatto. In questo momento il mio script ha fatto l'accesso al mio component renderer e ha cambiato il colore a rosso alla pallina. Se io premio A cambierà il colore a verde, se premo nuovamente A tornerà nuovamente a rosso. Quindi l'accedere alle componenti è ciò che effettivamente si utilizzerà tantissimo nei nostri giochi. Un esempio che vi posso fare, sempre per farvi un esempio calzante sulla base della mia misera esperienza è che io spesso accedo per esempio a un determinato script di un giocatore per vedere quanta vita ha oppure per vedere quante munizioni ha in quel momento e magari dare dei bonus a seconda della situazione in quel momento. Infatti noi possiamo accedere alle componenti di un determinato oggetto anche dall'esterno. Quindi possiamo accedere anche alle componenti che non riguardano l'oggetto nel quale stiamo valutando lo script. Per fare questo ho creato un altro script che l'ho chiamato script esterno. Quindi noi da questo script esterno vogliamo accedere esattamente allo script della funzione cambia colore, per esempio, dello script pallina. Innanzitutto, tanto per ritornare a un video di qualche giorno fa, per renderlo accessibile dall'esterno dobbiamo rendere questa funzione di tipo public in modo tale che è visibile dagli script esterni. Poi dobbiamo procurarci qualche metodo per avere un riferimento a questo oggetto che ci interessa. In questo caso, per esempio, creiamo una variabile tipo pubblica che poi inseriremo all'interno dell'editor e la chiamiamo appunto pallina. All'interno del mio script io voglio accedere al componente pallina, che è lo script che mi interessa, e lo voglio salvare in un oggetto di tipo pallina. Lo chiamiamo pallina script. Pallina vi ricordo che è il nome dello script che ho creato. Era meglio che lo chiamavo in maniera diversa, però scusatemi, ma non ho molta fantasia con i nomi. Quindi io cosa ho fatto? Ho salvato il mio script pallina, lo script pallina, dell'oggetto pallina, all'interno del pallina script che mi sono dichiarato qui. Questo l'ho potuto fare perché appunto ho un riferimento all'oggetto che inserisco tramite editor e mi sono potuto ottenere qualsiasi componente che mi interessava. In questo caso questo script vuol che vi era una funzione che mi serviva. Qui posso, per esempio, utilizzare un altro tasto, che ne so, B, per accedere alla funzione che mi interessa dello script della pallina, che è cambio colore. Ora, non ci resta che inserire il mio script esterno all'interno della mia telecamera, per esempio. Inserire il mio oggetto che ha lo script all'interno dell'editor. Adesso premo A e cambio colore, ma posso anche premere B e cambierò colore. Quindi ragazzi, mi raccomando, il get component è davvero molto importante. Ricordatevi solo che se volete rendere qualcosa, qualche componente, che fa parte di uno script visibile all'esterno, di renderla pubblica, o comunque di fornire qualche metodo pubblico che vi permette di accedere a ciò che vi interessa, altrimenti potete accedere a qualsiasi componente. E potete anche, per esempio, verificare se questa componente è attiva o meno, andando a fare un check in quello che è il controllo, appunto, enabled. In pratica, ipotizziamo che io voglio controllare, per esempio, nell'oggetto pallina, se il pallina script è attivo o meno. Per fare questo devo effettuare un check sul booleano enabled, che mi dira, appunto, fuori un booleano, quindi un true o false. In questo caso sto controllando se è effettivamente attivo. E io digito. Un messaggio di debug per farvi vedere il funzionamento. E come potete vedere, effettivamente è attivo. Tuttavia, se io decido di, per qualche motivo, di disattivarlo, come potete vedere, il messaggio smette di essere pubblicato. Una cosa importante è che l'enabled è anche in scrittura, quindi io volendo posso effettivamente cambiare se il mio componente è attivo o meno, andando ad agire proprio in questo modo. Quindi scrivendo, facendo un'assegnazione, andando a modificare direttamente il valore, a seconda di quello che mi interessa, se deve essere vero o falso. Quindi, ragazzi, vi dovete ricordare getComponent, vi dovete ricordare enabled, e vi dovete ricordare che, se volete che una componente, un qualcosa di uno script sia disponibile anche dall'esterno, di renderlo pubblico. Vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video.